Il nostro prodotto si chiama Shalastic. Abbiamo realizzato un'immagine coordinata al nostro prodotto e un logo per la nostra azienda. Ma cos'è Shalastic? Shalastic nasce da un bisogno reale. Dopo l'attività sportiva si ha il bisogno di lavarsi. Shalastic è un elastico pratico ed ecologico. A contatto con l'acqua calda rilascia il suo shampoo e le sue sostanze nutritive, adatto ad ogni tipo di capelli. È utile, poco costoso e non è ingombrante. Abbiamo anche realizzato una campagna pubblicitaria utilizzando il social network. Shalastic! Libera il tuo shampoo!